Domato dopo nove ore di lavoro il vasto incendio scoppiato ieri sera in un'azienda di riciclaggio rifiuti alla baraccola di Ancona. I timori e le preoccupazioni dei cittadini di Porto San Giorgio dopo la mega rissa di colpi di pistola esplosi in pieno centro sabato scorso. Turismo industriale, musei d'impresa, un'opportunità per la nostra regione, se ne è parlato martedì alla Camera dei Deputati in un evento di Visit Industri Marche. Una tabaccheria etica a calcinelli di Colli al Metauro dove il titolare ha dichiarato lo stop alla vendita di gratte e vinci. Telespettatori marchigiani, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento quotidiano con l'informazione in diretta di TVRS. La nottata appena trascorsa, l'abbiamo sentita, è stata caratterizzata dal maxincendio scoppiato in un'azienda alla baraccola di Ancona poco prima delle 24. Le fiamme, l'alta colonna alifumo che si è sprigionato, hanno provocato grande e comprensibile allarme tra i residenti con l'evacuazione di tre famiglie, semidistrutto il capannone, ma non ci sono state fortunatamente conseguenze per le persone. Ma sentiamo maggiori dettagli in questo servizio. Ci sono volute nove ore di intenso lavoro per spegnere quasi completamente le fiamme che sono divampate ieri sera nell'azienda di gestione e riciclo rifiuti DS Smith Recycling, nella zona di via caduti del lavoro vicino al centro Mirum ad Ancona. I vigili del fuoco del capoluogo di Osimo sono stati impegnati tutta la notte e stamattina sono in corso le operazioni di smassamento e bonifica dei materiali coinvolti. Erano ancora accesi alcuni focolai del materiale bruciato che comunque i pompieri hanno tenuto sotto controllo. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse ad altri edifici vicini, ma nel frattempo in una palazzina situata nei pressi alcune famiglie sono state allontanate precauzionalmente per poi far rientro. Preoccupazione in tutto il circondario per le alte nubi di fumo che si sono sprigionate. Nell'azienda sembra vi fossero stoccate ecoballe, carta, cartoni e materiale ferroso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, ma al momento le cause del rogo sono ancora ignote. Restiamo in tema perché nel frattempo stamani il sindaco di Ancona Silvetti ha suddiviso l'area in tre zone. In quella rossa si è disposta la chiusura delle strutture sportive e delle abitazioni adiacenti alla zona interessata dall'incendio, fino a verifica della staticità delle stesse, nonché la pulizia delle pertinenze delle superfici esterne all'aperto. L'avvenuta verifica della staticità dell'integrità delle strutture dovrà essere certificata da tecnico abilitato. Per la zona arancione viene disposta la chiusura delle attività produttive fino alla pulizia delle strade. Prevista anche una zona gialla. Proseguiamo con la cronaca. Due quarantenni pregiudicati sono stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano rubando del materiale edile in un cantiere a Montegranaro. All'interno del mezzo sono stati rinvenuti cavi elettrici, tubi in rame ed altro per un valore complessivo di circa 1000 euro. A Porto San Giorgi i militari hanno arrestato in fragranza di reato una 38enne marocchina con precedenti penali che poco prima aveva rubato un borsello al proprietario di un ristorante, spintonando e minacciando con un calice rotto di vetro i gestori dell'esercizio. La donna nel frattempo allontanata si è stata raggiunta nei pressi della stazione ferroviaria e dovrà rispondere dei reati di minaccia e rapina impropria. E restiamo nella cittadina rivierasca dove c'è ansia e preoccupazione tra i residenti dopo i recenti fatti di cronaca ed in particolare la megarissa in pieno centro di sabato sera. Al tal proposito è stato identificato e denunciato il giovane che ha sparato, un marocchino ventenne già noto alle forze dell'ordine. Le voci raccolte per noi da Giada Berdini. Sale la tensione a Porto San Giorgio dove sabato sera sul lungomare del centro si è verificata l'ennesima rissa e l'ennesimo ragazzo è rimasto ferito. Calci e pugni tra un gruppo di nordafricani fino a ben tre colpi sparati a salve con non una pistola scacciacani come si era ipotizzato ma con un'arma vera e propria. Una semiautomatica rinvenuta nel pomeriggio di lunedì sotto un'imbarcazione nel circolo nautico blu. Il motivo sembrerebbe sempre lo stesso, un pericoloso giro di droga che partirebbe dal quartiere Lido Trearchi e coinvolgerebbe tutto il litorale fermano. Tra i protagonisti della guerriglia di sabato sera infatti ci sarebbe anche uno dei ragazzi della rissa di Porto Sant'Elpidio dove perse la vita un 23enne. Una roba senza commenti, in pieno centro alle 10 di sera con bimbi, ragazzi, gente, famiglie. Una roba da vergogna scandalosa. Ma non è la prima volta qua che succedono queste cose? No, no. Ultimamente sta peggiorando diciamo. Ma già l'anno scorso secondo me la situazione era fuori controllo. Però quest'anno c'è una rissa qua con tanto dei colpi di pistola in pieno centro, le 10 di sera penso che si è superato il segno. Spero che l'amministrazione comunale, il prefetto, il questore o chi per loro facciano subito qualcosa perché secondo me la situazione è completamente fuori controllo. Poi c'era già stato l'episodio di Porto Sant'Elpidio quindi direi che peggio di così non può andare. E' pericoloso. Io alla sera non esco più sinceramente. Io ho 80 anni e ormai non vado più. Però quando esce mio figlio dico sta attento perché ecco il macello e Porto Sant'Elpidio se ne sente tante, se ne sente, capito? Ma è possibile che non ci sta un vigile lì al centro, la stazione. Non si vede un vigile la sera? Non vedi nessuno. Allora la malavita, se la vogliamo chiamare, che sta a Trearchi e lì fanno le ronde. Allora da lì si spostano questa gente, si sposta, va a Porto Sant'Elpidio, va a Porto San Giorgio, va a Pedasso. Quindi ci vorrebbe forse un po' di ronda pure qua, il nostro luogo. Dopo la riunione in detta d'urgenza dal prefetto di Fermo è stato disposto un incremento dei provvedimenti già in atto, ovvero maggiore videosorveglianza e più polizia presente sul territorio. Ma basterà ad arginare l'escalation di violenza di questi giovani che, sembra, stiano tenendo sotto scacco la città? La Polizia Ferroviaria di Ancona ha, insieme al personale di Polizia Scientifica della Questura di Fermo, provveduto all'identificazione dell'uomo deceduto per un investimento lungo la linea ferroviaria lo scorso sabato. Si tratta di un italiano di circa 40 anni privo di pregiudizi di polizia residente a Marina di Altidona. Dalla ricostruzione il tutto sembra ricondursi ad un tragico incidente. Dopo sette ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise di Pesaro ha inflitto la pena dell'ergastola Rocco Versace, 58 anni, calabrese, accusato di concorso nell'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia. Avvenuto a Pesaro il pomeriggio di Natale del 2018 ad opera di due sicari già condannati all'ergastolo. Versace era accusato di aver fatto da battistrada i sicari per uccidere Bruzzese come vendetta della famiglia Crea nei confronti del fratello della vittima, Girolamo, diventato negli anni collaboratore di giustizia. Versace ha negato gli addebiti ma non è stato creduto, però ha annunciato il ricorso in appello. Cambiamo argomento. Presso la Camera dei Deputati, martedì si è tenuto un importante evento dedicato al turismo industriale ai musei d'impresa, promosso da Visiti Industri Marche. Vediamo. Promuovere la valorizzazione dell'identità produttiva attraverso percorsi inediti che uniscono fabbriche, territori, storia, natura, arte e cultura è l'obiettivo dell'importante evento dedicato al turismo industriale ai musei d'impresa che è stato illustrato martedì a Roma, nel corso di una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati promossa da Visiti Industri Marche e Paesaggio d'eccellenza. Strumenti musicali, meccanica, pelletteria, chimica, nautica e tanto altro, tutte opportunità per incentivare il turismo industriale e per valorizzare in modo tangibile la nostra identità, connettendo profondamente i visitatori con i territori, la storia e le tradizioni locali, iniziative che si allinano perfettamente con la promozione del Made in Italy. Il museo d'impresa è sicuramente un'opportunità enorme per una regione come le Marche, che è piena di eccellenze e che può coniugare la storia delle nostre imprese con il paesaggio e la bellezza del nostro territorio. Due sfide che diventano in una se guardiamo al turismo, sono compatibili perché nelle nostre imprese abbiamo raccontato le eccellenze manifatturiere, le eccellenze artigianali, le eccellenze meccaniche, le eccellenze industriali. Dall'altra parte tutto questo che nasce in un contesto di bellezza, di un grande patrimonio culturale, no gastronomico e paesaggistico e il fatto che ci siano luoghi che siano in grado di interpretare, raccontare, trasmettere la storia di queste imprese che hanno appunto dato al nostro territorio anche occupazione e anche un'affermazione importante nei mercati internazionali è per noi un patrimonio da trasmettere e una testimonianza da dare per come si sono svolte in questi decenni tutte queste storie avvincenti e per come da quelle storie avvincenti la nostra regione è riuscita ad affermarsi a livello internazionale, a livello mondiale. Le aziende devono sempre di più aprire le porte ai turisti e far conoscere la propria realtà imprenditoriale, soprattutto al turismo di prossimità e ai giovani quindi, ma anche ai turisti che vengono sia dall'Italia e sia dal mondo internazionale. Prossimo appuntamento pubblico, una tavola rotonda che il 4 luglio alle 17.30 aprirà l'Ulisse Fest di Lonely Planet quest'anno ad Ancona. Ancora una breve di cronaca, i carabinieri di Tolentino hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un trentenne già noto per reati contro il patrimonio e legami con l'ambiente della droga, indagato per rapina aggravata e lesione nei confronti di un'anziana. I fatti si erano verificati il 24 maggio scorso, quando i militari erano intervenuti nel centro cittadino dove la donna, ultranovantenne dopo aver prelevato del denaro presso l'ufficio postale, era stata seguita da un giovane appostato che al fine di strapparle dalle mani la borsa contenente la somma di circa 500 euro ed effetti personali, l'aveva spintonata tanto da farla cadere a terra causandone una frattura alla spalla per poi dileguarsi nelle strette vie della zona. Gli agricoltori marchigiani sono esasperati dall'eccessiva presenza di cinghiali e sono pronti a protestare davanti a Palazzo Raffaello Coldiretti, tra l'altro chiede misure immediate di contenimento Luca Falcetta. Il problema cinghiali sta diventando estenuante per il settore agricolo, un'invasione ormai fuori controllo per la Coldiretti Marche che manifesterà a luglio ad Ancona sotto Palazzo Raffaello in Regione per chiedere tutta una serie di misure anche alla luce della nuova normativa nazionale. Una presenza, quella dei cinghiali, stimata o forse sarebbe meglio dire sottostimata in 40.000 capi in tutte le Marche, anche ridosso dei centri urbani più popolosi. Una fonte costante di pericolo per la sicurezza di tutta la comunità e una minaccia per le culture agricole, dicono ancora da Coldiretti. La nuova legge sulla caccia, modificata in Consiglio regionale martedì scorso, che l'associazione di categoria definisce comunque positiva, rischia però di rimanere inutile se non si opererà una drastica riduzione straordinaria del numero di cinghiali presenti sul territorio. Ormai non c'è più tempo, le aziende agricole hanno perso la pazienza, dichiara la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni. È un problema annoso su cui Coldiretti Marche manifesta da tempo. Oggi torniamo ad organizzare un'ulteriore mobilitazione che avrà luogo sotto Palazzo Raffaello nei primi giorni di luglio perché il tema cinghiali è uno dei temi che oggi colpisce maggiormente le aziende agricole. I danni che oggi subiscono gli agricoltori per il 75% derivano dal problema fauna selvatica e quindi è chiaro che è arrivato ancora una volta il momento di interrogare la politica su quale scelte voglia fare per risolvere un problema che sta portando alla chiusura di tantissime aziende, all'abbandono di molte aree della nostra regione, soprattutto interne, con conseguenze devastanti anche per il rischio di dissesto idrogeologico, oltre al fatto ovviamente alla perdita di economia, di posti di lavoro e di tenuta del territorio. I temi da affrontare sono molti, noi oggi stiamo chiedendo alla regione un piano di abbattimento straordinario anche in funzione di una riduzione del rischio della peste suina e della tubercolosi bovina che sta portando all'abbattimento di diversi capi di bestiame. Quindi questo è uno dei tanti temi che affronteremo nella nostra mobilitazione. È chiaro che la regione dovrà dotarsi anche di un ufficio adeguato a quella che è la necessità di gestione di un tema così delicato, ma non solo, porteremo avanti anche la richiesta del commissariamento di tutti gli ATC che sono strumenti che in tutti questi anni non hanno funzionato e che hanno bisogno di una completa rivisitazione. Ancora buone nuove per l'Università di Camerino che conferma la sua forte caratterizzazione internazionale. Sono stati infatti appena finanziati da un'agenzia nazionale, fa sapere l'Ateneo, con una valutazione molto positiva. Due progetti presentati da Unicam per un importo complessivo di 1.400.000 euro per la mobilità internazionale di studentesse e studenti, docenti e staff dell'Ateneo per i prossimi due anni. Il finanziamento consentirà ad un numero maggiore appunto di studenti di avere l'opportunità di andare a studiare all'estero e di sviluppare una parte del loro progetto formativo in diverse università non solo europee ma anche di paesi quali Canada, Stati Uniti, Giappone, del Sud America, Asia, Mediterraneo ed Africa. E lo accennavamo in apertura a Calcinelli, il gestore di una tabaccheria ha dichiarato lo stop alla vendita dei Gratta e Vinci, Lino Balestra. Buongiorno. Buongiorno. Salve, senta, volevo un Gratta e Vinci. No, noi qua non ne vendiamo più Gratta e Vinci. Abbiamo tolto di mezzo questa situazione dei Gratta e Vinci perché c'è gente che gioca troppo e noi non vogliamo essere complici del gioco all'azardo. Siamo lungo la via Flaminia, la strada statale 3, quella che porta a Roma e naturalmente il comune è Colli al Metauro in provincia di Pesero Orbino. Siamo qui perché c'è una tabaccheria molto particolare. È la tabaccheria posta vecchia, è sulla nazionale praticamente e in questa tabaccheria si respira un clima completamente diverso. Non solo no Gratta e Vinci ma anche no Slot Machine. È una scelta etica, quella di Mario Papariello, 58 anni originario di Salerno. Una scelta anti-economica certo perché gli costa un mancato incasso e anche 160 euro che deve ogni mese versare per contratto all'ottomatica da onorare fino alla fine del contratto. Ma dormire sereno la notte non ha prezzo. Troppe sono state le storie tristi che ha vissuto sulla sua pelle di esercente, storie di disperazione, persone che in pochi attimi hanno bruciato la pensione oppure i pochi soldi che avevano per una speranza effimera, quella di un futuro migliore che passa attraverso la dea bendata ma che spesso invece porta alla rovina. Ha detto basta quindi, non più, non qui, non in questa piccola tabaccheria lungo la strada fatta dai romani 2000 anni fa. Qui si fa un'altra storia, una storia di umanità e di solidarietà. Anche l'odore che c'è nel negozio è quello di un tempo, un tempo passato dove c'era più umanità, più assistenza e dove tutti si conoscono. Gli anziani, pensate che vengono qui, non pagano due euro come in altri posti. Mario ha fatto un'altra scelta, quella di fargli pagare soltanto 80 centesimi per pagare le utenze. E questo chiaramente non apprezzo, tante sono le manifestazioni di solidarietà che gli hanno mostrato in questi mesi in cui ha fatto questa scelta. Persone che entrano qui la prima volta e che comprano altri oggetti. Ha diversificato ovviamente l'offerta commerciale per cercare di ammortizzare il mancato incasso. Ma volete mettere a fine giornata la soddisfazione di andare via con un sorriso una volta abbassata la saracinesca? Ecco, tutto questo non apprezzo. Domani è sabato presso l'Aula Magna del Comune di Recanati si trà il convegno diabete, gravidanza ed obesità. Una a due giorni molto intensa con varie sessioni di lavoro e molteplici relatori. Il diabete purtroppo è una malattia sempre maggiore diffusione che ha un forte impatto sullo stato di salute e sulla qualità della vita di una donna. Il diabete gestionale rappresenta circa il 6-7% di tutte le gravidanze con il rischio di complicanze e di malformazioni fetali. Questi saranno gli argomenti trattati a partire dal pomeriggio di venerdì alle 14. Ed andiamo a Venarotta, piccolo centro del Piceno, presentata la scultura Uno Specchio di Cielo. Mario Larocca. All'interno della quarta edizione del Festival del Libro di Venarotta, oltre all'inaugurazione del Parco della Lettura, c'è stata la presentazione della scultura Uno Specchio di Cielo, realizzata dall'artista Giuliano Giuliani in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore Rocco Scotellaro e generosamente donata dalla società Graziano Ricami al comune di Venarotta. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma nel 2023 ha invitato 44 artisti con la curatera di Giuseppe Appella a interpretare la figura di Rocco Scotellaro, poeta, narratore e soprattutto un uomo socialmente impegnato. Io con la mia caratteristica scultura ho pensato di realizzare ciò che a sud è più significativo, quali appunto le colonne, colonne dei templi greci, eccetera. di questa grande struttura del passato, rivisitarle, svuotarle con la caratteristica della leggerezza di cui ho fatto il mio lavoro. Ho messo dei piedi nudi perché i piedi erano la forma con cui più siamo in contatto con la natura, la forma con cui più percepiamo il mondo, l'esistenza. Venarotta, festival del libro, festival dell'appennino e soprattutto un grande gesto di un mecenato come Graziano Giordani che ha voluto regalare una scultura, un'opera, un'installazione fatta dalle opere, dalle mani straordinarie di Giuliano Giuliano e dedicata alla poesia di Rocco Scotellaro. Ecco, in un piccolo centro di 2.000 abitanti abbiamo capitali di industria che stupiscono il mondo con le loro creazioni, abbiamo sindaci che mettono in campo festival culturali, insomma c'è tutto quello che serve per poter pensare che finita la ricostruzione questi centri e queste comunità possano rappresentare luoghi ideali in cui vivere, questo è il nostro obiettivo. L'augurio è che accolgono molti giovani che possano sedersi e ne fanno il loro spazio privilegiato in modo da guardare retrospettivamente alla scultura, al suo silenzio, quindi dialogare con lei e guardare allo stesso tempo al silenzio della natura e degli alberi che la circonda in modo per crescere, maturare e sensibilizzare loro stessi. Alcune notizie di cronaca che sono appena giunte in redazione. Un giovane è stato trovato in possesso di quasi 25 grammi di hashish in un appartamento di Borgo San Giuliano a Macerata. L'operazione è stata messa a segno dalla squadra mobile della Questura. Gli agenti hanno seguito un magrebino già noto alle forze dell'ordine, poi è scattato il blitz che ha portato alla denuncia. Nella casa anche tre gambiani, tutti regola, con il permesso di soggiorno. Ci sono stati momenti di apprensione all'alba nei pressi della rotatoria di Petritoli, nel Fermano, dove è stato trovato un motociclista a terra privo di sensi. A dare l'allarme un uomo della raccolta rifiuti sul posto degli operatori sanitari del 118 hanno subito soccorso il sessantenne, non cosciente, ma che respirava autonomamente. Allertato l'elisoccorso, il motociclista è stato trasportato a torrette. Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica del sinistro. Ed ora lo sport. Anche qui una notizia dell'ultima ora di calcio. Alessandro Sbaffo è stato ufficializzato come nuovo acquisto della San Benedettese dal prossimo 1 luglio. Quindi il giocatore ex bandiera della Re Canatese vestirà la casacca rossoblu. Andiamo al basket, ultimissimo atto della stagione agonistica. Stasera a Ragusa, gara anticipata alle 19.30 per la concomitanza con Italia-Spagna di calcio. La Italservice Loreto Pesero si gioca l'accesso alla BNazionale nello spareggio contro la compagine siciliana. La serie è sull'1-1 ed i ragazzi di Foglietti debbono giocare la bella lontano dalle muramiche per sorteggio. Conforta comunque l'ottima prestazione vista domenica al Palamegabox. E torniamo ad occuparci della straordinaria cavalcata del Castelfidardo calcio, culminata con il ritorno in serie di dopo la vittoria 3-1 contro lo Zenit Prato. I festeggiamenti proseguono, ma è tempo di pensare a programmare un campionato che si preannuncia estremamente competitivo. L'intervista è di Andrea Busiello. Anche oggi c'erano al campo una cinquantina dei nostri sostenitori che sono stati sempre anziani, che sono stati sempre a vedere tutti gli allenamenti euforici. Stamattina due oltre ottantenni hanno fatto la camminata a Castelfidardo-Loreto per ringraziare della promozione. Sono cose che veramente ti toccano dentro. Devo dire che noi eravamo anche motivati personalmente da obiettivi importanti e quindi questo è quello che abbiamo fatto. Sinceramente, come hai detto tu, nessuno si immaginava una cosa del genere ed è stata una cavalcata spettacolare. Poi vedere il Mancini domenica pieno oltre ogni immaginazione e ricevere tantissimi messaggi dei Fidardensi che mi ringraziavano perché sono tornati allo stadio a urlare forza Castelfidardo è una cosa, una moneta che non ha valore sinceramente. Il tempo stringe però perché chiaramente il campionato quest'anno è terminato in maniera lunghissima e bisogna già pensare anche alla prossima stagione. Immagino qualche altro giorno di festa, è giusto che ve lo conciliate, ma Andrea quali sono le direttive? Guarda, sinceramente devo dire che in questo momento siamo i stand-by perché la proprietà si è presa una settimana di tempo per fare tutta una serie di valutazioni loro personali e ovviamente per cercare di affrontare al meglio la sfida della Serie D perché abbiamo già visto che il girone è un girone molto molto impegnativo, se poi come si vocifera ci sarà anche l'Ancona in sovrannumero bisogna allestire una squadra diciamo all'altezza della situazione. Noi in questo momento qui stiamo aspettando quelle che sono le direttive e ovviamente con l'augurio che quello che ne uscirà fuori da questi incontri, da queste riunioni sia una situazione che ovviamente sia migliorativa, sia per fare qualcosa di meglio, altrimenti ognuno di noi farà le giuste valutazioni. Ormai siamo arrivati al limite perché ovviamente non per colpa loro ma abbiamo giocato fino a domenica scorsa ma adesso siamo oltre ogni limite di tempo. La deadline è lunedì prossimo e lunedì la società ci comunicherà quali sono le decisioni. Da proposito di Ancona sembra ormai tracciata la strada vista la poca concretezza di Tony Tiong il sindaco Silvetti appare deciso a tentare la carta per altro difficile della serie di in sovrannumero appunto con una nuova matricola. Occorrono 400 mila euro a fondo perduto e tra gli altri investimenti anche 31 mila per la fideiussione. Chiudiamo con la palla a volo dopo l'arrivo del canadese Demianiencola, Uasa Grotta Zolina, completi il reparto dei centrali con l'ingaggio del 23enne Francesco Comparoni, parmenze di proprietà del vero Vollimonza e proclamato migliore nel suo ruolo all'europeo Under 22 di due anni fa. Bene è tutto con la prima edizione del telegiornale, grazie per essere stati con noi, come sempre vi lascio alle previsioni meteo, vi do appuntamento alle 18.50, buon pomeriggio. Ben trovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di giovedì, quando possiamo notare l'alta pressione africana a interessare gran parte dell'Italia, i Balcani e la Grecia con prima rovente temperature anche fino a 40 gradi, mentre una zona di bassa pressione tra nord Spagna e Francia lambirà l'estremo nord-ovest. Ecco come con il passaggio di questa nuvolosità medio alta, tratti compatta su Piemonte, Liguria, Valle d'Osta e parte Lombardia, sarà possibile con la successiva immagine notare anche delle occasionali precipitazioni che dalla Francia lì saliranno verso nord-est, verso appunto queste regioni dell'angolo nord-occidentale. Altrove clima asciutto e possiamo notare difatti sul nord-est e al centro-sud ampio soleggiamento con temperature che proprio sulle regioni centrali e parti del sud toccheranno anche i 38-39 gradi. Maggiore dettagli approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.